Questo weekend, sabato e domenica, torna l'attesa festa della Croce Verde a Borghetto Vara e arriva in una settimana particolare per la Croce Verde perché c'è stata un'acquisizione importante. Molto importante per noi perché siamo diventati proprietari della sede dopo tanti anni e siamo riusciti con l'aiuto dell'amministrazione comunale a fare questo passaggio davanti al notaio. Quindi dal 7-8-2018 siamo proprietari della nostra sede e quindi festeggiamo anche questa cosa qua. Un passaggio importante ed è importante il lavoro che fa l'Associazione sul territorio. Circa una quarantina ai volontari, quali sono le attività? Le attività sono emergenza-urgenza che l'anno scorso ne abbiamo fatte parecchie, abbiamo superato tutti i record di tutti gli anni. Purtroppo evidentemente succedono queste cose, viaggi programmati e viaggi anche per la popolazione più anziana che ha bisogno di qualsiasi trasporto, di qualsiasi cosa, analisi, quelle cose lì. È una cosa importantissima per la popolazione. Ed è importantissimo sostenere l'Associazione anche partecipando alla festa. Allora entriamo nel dettaglio. Sono due giorni dedicati, naturalmente alla buona cucina e alla musica. Allora, cominciamo sabato prossimo, 11 agosto, la sera dalle ore 19 nel Centro Storico. Potrete degustare il menù tradizionale a base di ravioli, casalinghi, polenta, sugo di cinghiale, porchetta, asado, dolci. E lo stesso anche la domenica sera, sempre a partire dal 19 nel Centro Storico di Borghetto Vara. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.